E' ancora bufera sulla vaccinazione ad Andrea Scanzi. Il giornalista Aretino nei giorni scorsi aveva infatti raccontato di aver ricevuto una dose di AstraZeneca come riservista, categoria formata da persone che usufruiscono delle dosi avanzate delle immunizzazioni a fine turno della normale distribuzione. La procura di Arezzo così aveva aperto un fascicolo conoscitivo sul caso senza ipotesi di reato né indagati ed adesso si è attivato anche il Codacons. L'associazione infatti ha presentato un esposto alla procura Aretina chiamando in causa non solo l'Atla Toscana Sud-Est ma anche la regione toscana. L'azienda sanitaria avrebbe garantito come noto la correttezza della procedura seguita per la vaccinazione, sostenendo che il giornalista fosse regolarmente iscritto alla cosiddetta lista dei panchinari e sarebbe risultato anche caregiver che si prendeva cura dei due genitori anziani. Ma il Codaco non ci sta e chiede di verificare entrambe le affermazioni, sostenendo che la lista dei cosiddetti riservisti non esisterebbe e che il modulo per iscriversi all'elenco sarebbe stato pubblicato online dall'ASL solo sabato scorso, ossia un giorno dopo la vaccinazione di Scanzi. L'associazione dei consumatori mette poi in dubbio anche che il giornalista possa definirsi come ha fatto caregiver, ossia badante dei genitori in quanto figlio unico. Le disposizioni del Ministero della Salute, fa notare l'associazione, prevedono che abbia diritto al vaccino solo chi si prende cura in modo continuativo e costante di disabili o soggetti fragili, dubbi su cui ora dovrà pronunciarsi la procura di Arezzo.